Ciao! Ciao a tutti, ciao! Che bello, che bello! Grazie, è troppo! Grazie, 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 grazie! Grazie, come va? Come va? È un po' tardi, eh? A quest'ora immagino avrete anche fame? Sì! Vedi che reattivi che siete, vedi? Avete mangiato bene? Sì! No, tu cosa hai mangiato? Tu non hai proprio mangiato, abbiamo un'astinenza, chi è che ha mangiato di voi? Tu, perfetto, grande, cosa hai mangiato? Un aperitivo, hai messo la foto su Facebook? No! Hai fatto bene perché non gliene frega un cazzo a nessuno! Brava, brava! No, è una roba ossessiva! Abbiamo sostituito la nostra identità col cibo e siamo ossessionati. Io voglio farvi vedere due notizie. La prima arriva da un ristorante di Arezzo, il ristoratore picchia un cliente per aver preso solo due antipasti. Mangia, bastardo, mangia! Minchia l'ha menato! 40 giorni di prognosi, costole rotte, non contento gli ha anche fatto un occhio nero, così almeno ho dovuto ordinare una bistecca per mettercela sopra. E la seconda notizia che voglio farvi vedere arriva da una scuola elementare di Lodi, se ne è parlato molto questa settimana. Lodi, niente mensa per i bambini di famiglie extra UE, a scuola con i panini. Siccome i genitori dei bambini extracomunitari non potevano dimostrare di essere poveri, dei bambini, ripeto, bambini, non potevano mangiare con gli altri. Quindi, da un lato c'è uno che viene menato perché non mangia abbastanza, non si sa il nome del ristorante, credo sia a casa di mia nonna a Genova, perché era così. Dall'altro ci sono dei bambini che, guarda caso, sono extracomunitari che non possono mangiare con gli altri. Quindi il cibo non solo come ossessione, ma anche come strumento politico. Vi ricordate i grillini con le pizze nella campagna elettorale? Prodi, anzi no, Renzi che si è mangiato a metà degli elettori del PD. E c'è anche Salvini che lui mangia sempre, mangia sempre, ossessionato, guardate. Ma che cazzo è? Un calipo al manzo sto cuore. No, è incredibile perché ogni volta che Salvini fa un post muore un vegano, porca torta. No, 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 mi sono sbagliato. Vi piacciono le stronzate? Allora, non è un calipo al manzo, credo che siano i resti di Bossi, uno stinco. Ma da quando? A parte le scemate, da quando il cibo è diventato un'ossessione? Da adesso con i programmi di cucina? No, il cibo è sempre stato un'ossessione. È una storia lunga che trae origini dalla Bibbia e ne portiamo le conseguenze ancora oggi. Voi vi ricordate qual è stata la prima grande incazzatura di Dio? Non mangiare la mela, non mangiare la mela, non mangiare la mela. E per colpa di una mela che Eva, la prima fruttariana della storia, ha offerto ad Adamo... Ad Adamo, il primo infogliato della storia, il padrone del frutteto si è incazzato tantissimo e adesso io invece che girare nudo nell'Eden in un giardino bellissimo pieno di gnocca così, per colpa di una cazzo di melinda biologica, devo vivere in un bilocale nei vicoli di Genova. Ma porca Eva! Ovela! Ma a parte le fiction, anche nella preistoria vera avevamo problemi col cibo, lì il problema era più basic, il problema era trovarlo il cibo. Pensateci, l'uomo delle caverne doveva cacciare una lepre tutto il giorno, non aveva nemmeno tempo di trombare e secondo me infatti la lepre appena la prendeva prima di ucciderla... Due colpetti, insomma... No, salutiamo tutte le lepre, vittime di abusi dai Neandertal. Ciao ragazzi, andiamo con voi. È stato un casino. Facciamo un salto in avanti, arriviamo anche all'epoca di Gesù. Lì anche erano fissati col cibo, avevano un problema. Infatti, quando è che hanno cominciato a prendere Gesù sul serio? Con i miracoli, bravo. Ma con quale esattamente? Abbiamo un catechista in sala, grande, con la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Bravo! Cibo! Erano già ossessionati. Gli altri miracoli non glieli cagavano. Ha curato la lebra, ha fatto camminare un paralitico, ha fermato una tempesta, ha camminato sull'acqua. Niente, non avrà bollito la povertà come Di Maio, ma anche Gesù, voglio dire, era abbastanza, abbastanza bravino anche lui. No, raga, scusate, pensateci, ha ressuscitato Lazzaro. Ce ne... eh, sì. Ce ne vuole per far ressuscitare uno? Niente, erano fissati solo con la moltiplicazione dei pani e dei pesci. C'era Lazzaro che girava per la strada e diceva, raga, mi ha ressuscitato! E gli altri dicevano, vuoi a cazzo me ne frega, c'ho il panino col tonno, vai via, Walking Dead, via la cazzo! Erano stessi. E da lì le cose non sono cambiate molto per tanti anni, fino a quando Colombo ha scoperto l'America. Scoperto. Diciamo che ci ha sbattuto contro... Insomma, l'America è grande, voglio dire, se ne sarebbe accorto anche Toninelli, ma da lì abbiamo avuto, salutiamo il ministro, abbiamo avuto una rivoluzione, perché sono arrivati un sacco di prodotti che prima non c'erano. I fagioli, i peperoni, il cacao, abbiamo scoperto la patata e... Dai, cosa è lì? Fa il sorrisetto, dai! No, voglio dire che finalmente c'era la patata per tutti e... Basta! Allora, insomma, la patata costava poco, ce n'era molta e... Non sto parlando di figa, basta! Per favore! Basta! Voglio bene anch'io. Insomma, cinque secoli fa dall'America sono arrivati tutti questi prodotti e vent'anni fa dall'Inghilterra è arrivato un nuovo modo per cucinarli. È arrivato Masterchef. No, a parte le risate, non so se avete notato. America e Inghilterra. Sono i due posti dove si mangia più di merda al mondo in assoluto. È come se i francesi ci insegnassero a usare il bidet o gli svedesi come funziona la mafia, non so se avete capito. Ma... È pazzesco! E sapete di chi è la colpa? No, ve lo dico io. Di lui. Porca trota! Joe Bastianich! Brutto Bastianich che non sei altro! E da quel momento i palinsesti televisivi che fino a quel momento si erano concentrati sul binomio mai abbastanza rimpianto tette e culi di donne hanno iniziato a inserire cosce e sovraccosce di galletti hamburghesi perché funzionavano di più. Avete capito il cambiamento epocale? Ci interessa più un rosticino che una figa? No, 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 ma aspetta, aspetta, aspetta! Ma poi si sono fatti leggerissimamente prendere la mano coi programmi televisivi. Avete notato? Ce ne sono non tanti, pochini. Io ho provato a scriverli e proverai con voi questo esperimento. Vediamo, spero di non averne dimenticato qualcuno. Cuochi d'Italia, cuochi e fiamme, la cuoca bendata, la terra dei cuochi, la prova del cuoco, il club delle cuoche. Torte di matrimonio, cercasi! Torte da record, il boss delle torte, che diavolo di pasticceria! La ricetta perfetta, ricetta colori, ricetta l'italiana, ricetta di sera. Quattro ristoranti, spia al ristorante, cucina da incubo, in cucina con giallo zafferano, in cucina con Ale, cucina con Buddy, cucina con Ramsey, i menù di Benedetta, le ricette di Sonia. Ma chi cazzo è? Sonia! Porca trota! Ma è una roba impressionante! Ho dimenticato qualcuno? Bake Off, dice un teledipendente. Ah, bravo! Tutta la saga di Masterchef, giusto? Masterchef, Junior Masterchef, Masterchef Celebrity, Masterchef e Ritorno dello Jedi, Masterchef Argentina, Masterchef Spagna, Masterchef Romania, Masterchef Isarele, Masterchef di Stoccazzo e Masterchef Australia, dove cucinano solo canguri! E infatti hanno inventato quattro salti in padella! Ehi! Ma il problema è che questi programmi hanno creato tutta una serie di cuochi della domenica, teledipendenti come me, che non sanno neanche aprire la sottiletta, la pellicola, ma vogliono cucinare come cracco. E andiamo a comprare tutti i prodotti giusti. Andiamo a Bronte, compriamo il pistacchio di Bronte, andiamo a Colonnata, compriamo il lardo di Colonnata, già che siamo di strada ci fermiamo a Verona per suonare a casa di Giovanni Rana e scappare, giusto per rompere i coglioni. Prendiamo tutti questi prodotti, li mettiamo insieme, li cuciniamo a bassa temperatura, li impiattiamo e dopo tutto questo sbattimento viene fuori, non per falsa modestia, un bel piatto di merda e in più crudo perché l'hai fatto a bassa temperatura. Vediamo, vediamo l'immagine. Allora, secondo voi, qual è il piatto che ha cucinato Cracco? È quello che ho cucinato io, grazie. E quindi i pistacchi di Bronte, il lardo di Colonnata e soprattutto sta cacata che ho cucinato io, finisce nella spazzatura e sprechiamo il cibo. Un tempo si diceva, non sprecare il cibo, pensa ai bambini in Africa. Adesso finalmente, lo possiamo dire, non sprecare il cibo, pensa ai bambini di Lodi. Dopo che abbiamo buttato via tutto il cibo, allora andiamo sotto casa a comprare un sano e patriotico kebab a chilometri zero e ingrassiamo. E poi dobbiamo rimetterci in forma, ma non sappiamo come fare, perché siamo ossessionati dal cibo, ma non sappiamo quale cibo fa bene, quale cibo no. Ognuno dice la sua. Io recentemente dovevo mettermi in forma per recitare un ruolo e allora mi sono affidato a un super personal trainer, uno di quelli che allena gli attori di Hollywood. Mi ha dato tutti gli esercizi da fare in palestra a Genova e io l'ho seguito come un talebano. Allora, sono lì col bilanciere da 700 grammi, tutti che ridono, come voi, bastardi, guarda c'è il comico che io ho la goccia di sudore qua. Arriva un altro allenatore della palestra e mi fa, cosa stai facendo? Eh, niente, sto facendo gli squat, come mi hanno detto. Ma no! E inizia a fare tutta una supercazzola di parole, incomprensibili che non riuscivo a capire. Ma tu col deltoio devi fare tutta la trasfigurazione, che c'è tutto il problema di traminazione, traminità, di che la tenacinettica posteriore, poi si fa il problema dello squat e qualcosa. Tu, yogurt greco. L'unica cosa che ho capito è yogurt greco, vado a comprare sto cazzo di yogurt greco, telefono al mio nutrizionista plurilaureato e gli dico, guai, quello della palestra mi ha detto di mangiare lo yogurt greco. Ma no! E anche lui parte con sta supercazzola incomprensibile. No, i latticini così, mi fai tre gliceridi, 21, 22, 23, che abbiamo fatto tutta la premoniazione, che tu hai un problema, se fai lo scarico la mattina, poi dopo fai uno o due giorni, al limite, toast senza formaggio. L'unica cosa che ho capito è toast senza formaggio, vado al bar e dico, Yolanda, per cortesia, mi fai un toast, ci levi il formaggio, che sono a dieta? A quel punto prende la parola uno che sta giocando al videopoker, evidentemente uno scienziato, in pausa, si gira e mi fa, no ma se vuoi dimagrire devi levarci il prosciutto, non il formaggio. Ma porca di quella puttana, basta con queste informazioni divergenti, io voglio che lo Stato istituisca un cazzo di ministro unico degli addominali. Sta uscindo i test. Scusatemi per lo sfogo ragazzi, la verità è che non c'è un piano alimentare che garantisca la vita eterna, basta non essere ossessionati col cibo. Infatti l'unico che ha ottenuto la vita eterna nella storia, sapete chi è? Noi Poo, no, sempre lui, sempre lui, quello dei miracoli. La persona più saggia e illuminata del mondo, lo vedete? Lì nell'ultima cena, è quello con la maglia del genuo al centro. E sapete cosa hanno mangiato? Un ricercatore ha veramente studiato, sappiamo che cosa hanno mangiato. Erbe amare, pesce crudo, pane senza sale, vino anacquato, menu, olio can eat, 30 denari, caffè compreso. No, 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 hanno fatto anche gli scontrini, non ti preoccupare, lo dico per i grillini presenti in sala. E no, ma se notate nella foto, vedete c'è Simone, quella con la veste rosa, che dice Beh lì, ma hai visto com'è ingrassato Giuda? E per forza con tutta l'insalata che mangia, quella gonfia. E quello blu che è Matteo dice, ma no, ho letto su Menzelte con la dieta della lattuga, ti viene la tartaruga in otto giorni. E poi c'è quello che sembra una donna così apprensiva che dice Ma nel paneasimo ci sarà mica il glutine, ragazzi? E parlavano già di quello, ossessionati anche loro. Quello che voglio dire è che Gesù, che era la persona che sapeva tutto, tutto, tutto di qualunque argomento Non come Selvaggia Lucarelli, ma quasi Li ha fatti mangiare poco, semplice e sano Cioè, prima dell'ultima cena, non è che ha fatto l'ultimo aperitivo, l'ultima pericena con Sant'Antonio da Padova che portava lo spritz No, li ha fatto mangiare semplice e sano Infatti mi direte, è morto da 33 anni? Ma no, perché lui dopo tre giorni è risorto Ed è volato in cielo E provaci a volare in cielo dopo che hai mangiato due chili di fritto E' lui che si incazza per la battuta sulla Lucarelli Sei meglio tu, proteggi Grazie mille, ciao Ciao, 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 ciao Ciao, 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 go